Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Premessa. Questo video si compone di due parti. La prima è una retrospettiva dell'interessante biennio 1973-1974, particolarmente fervido per la già vulcanica creatività di Frank Zappa. Se vi interessa questa parte, rimanete qui, altrimenti potete passare direttamente alla seconda, con il capitolo che trovate più sotto in descrizione. La seconda parte è quella dedicata a cinque soluzioni di impianti hi-fi del 1974 con i quali si potevano ascoltare gli LP di Frank Zappa. Se non vi interessa nemmeno questa, beh, non è colpa mia. Hai sbagliato video. Prima di andare via, però, lasciami almeno un like oppure iscriviti al canale. Farò di meglio la prossima volta. Parola di Frank Zappa. Prima parte. Dopo gli incredibili e burrascosi incidenti capitati nel tour del 1971, quello dell'incendio raccontato in Smoke on the Water dei Deep Purple e quello più tragico al Rainbow Theater di Londra, che lo costringerà per mesi sulla sedia a rotelle a causa di un'improvvisa aggressione sul palco, perfettamente ripresosi dal danno subito al collo e con un abbassamento di mezza ottava della voce che non gli dispiaceva affatto, Frank Zappa torna ad essere l'animale di vorastrada di sempre. Prima di imbarcarsi nelle 183 date del 1973, praticamente mezzo anno tra alberghi, pullman, aeroporti, rodi e ora anche una guardia del corpo, Frank ha bisogno di provare. A Natale del 1972 è già nella sala prove della neonata Discreet, il nuovo assetto societario in vista dell'imminente scadenza di contratto con la Bizarre. L'idea di Frank stavolta è di un sound più commerciale, per provare ad entrare nel circuito mainstream. In una pausa dal tour, Frank e la versione ennesima dei Mothers scelgono lo studio di Ike e Tina Turner per incidere i primi sei brani. Frank ha anche la fortuna di avere le Ike Ats a disposizione. E quando Tina, così contenta di aver registrato un passaggio difficile in Montana, chiama Ike di corsa per farglielo sentire, Ike la liquida con un lapidario cos'è questa merda, non le permetterà neanche di figurare nei credit del disco. Insieme a Dirty Love e Dynamo Home, Montana comparirà in Overnight Sensation del 1973, uno degli album più criticati di Zappa per i suoi espliciti riferimenti sessuali. Ma a Frank questo non importava. Il suo voler essere quasi un giornalista del perverso gli dava il diritto acquisito di parlare di qualsiasi cosa, soprattutto di quelle più torbide e disturbanti. Sperava così di contribuire alla conquista di una liberazione che passasse necessariamente dal sesso. Non dimentichiamo che questi erano gli anni del processo al film Gola Profonda, che ebbe ovunque grande risonanza. L'album successivo ad Overnight Sensation nasce dalle stesse sessioni di incisione. Con i Mothers in gran spolvero, Zappa non può che approfittarne, registrando e producendo quello che può essere considerato a pieno diritto un album di progressive rock, per la complessità delle strutture sonore, che si complicano a dismisura dal vivo. Ma siccome parliamo di Frank Zappa, il tutto è condito da un umorismo molto spicciolo. Anche se Apostrofi, questo è il titolo, esce come album solista, in studio Zappa, oltre ai Mothers, suona con musicisti del calibro di Jean-Luc Ponty, Jan Underwood, Ashley Dunbar e Jack Bruce dei Cream. Tutta gente che si perderà per strada man mano che l'album prende forma e ci si sposta in tour. Tutta quella musica così complessa, lasciata da parte perché troppo sofisticata per i vecchi Mothers of Invention, interessa ai musicisti di quel calibro, ma non il teatro dell'assurdo che Zappa monta sul palco. Nonostante queste defezioni, Frank festeggia il suo decimo anno di attività raggiungendo addirittura la top 20. Trainato dal singolo Don't Eat the Yellow Snow, Non Mangiate la Neve Gialla, che sale al decimo posto in classifica, Apostrofi diventa il secondo disco d'oro di Zappa. Per Frank il successo di Apostrofi rispetto ad Overnight fu conseguenza dello sforzo promozionale della Warner, che arriverà a produrre anche una serie di spot televisivi, mandati in onda durante la trasmissione di Monster Movies. L'idea di marketing era che quello fosse il pubblico a cui l'album potesse piacere di più. Riascoltato oggi, Apostrofi è un risultato incredibile. Considerate le storie che racconta lo stesso Zappa. La band che ascoltate è stata insieme solo dieci giorni, Apostrofi per loro è stato come un campo di addestramento, così raccontava Zappa. Conoscendo il suo stacanovismo si può solo immaginare lo sforzo compiuto. Molto del materiale di quelle lunghissime sessioni di registrazione finirà negli innesti dell'altrettanto iconico e geniale live album Zappa Mothers, Roxy and Elsewhere. A mio giudizio, se si vuole comprendere cosa fosse Zappa in quegli anni, bisogna vederlo dal vivo. E il Blu-ray di Roxy The Movie è il mezzo perfetto per capirlo. Se non volete acquistare il Blu-ray c'è sempre lo streaming e vi consiglio caldamente di ascoltare questo Apostrofi. Ma a questo punto la domanda più importante. Ma 50 anni fa come si poteva ascoltare Apostrofi? Ecco allora una selezione di 5 possibili impianti i fai dell'epoca a partire da 330 mila fino a 2 milioni e 200 mila delle vecchie lire. Impianto numero 1. Giradischi Conno SR BD2. Amplificatore Superscope A260. Diffusori Scandina A20. Il BD2 dell'inglese, che sembra francese Conno SR, era un piatto sicuramente economico che si poteva acquistare in kit, senza base di legno e copertura, o premontato con base e copertura. Proposto per un primo impianto di qualità anche dai rivenditori del tempo, il BD2 era un giradischi a cinghia. La sigla BD stava proprio per Belt Drive, che sacrificava l'estetica a vantaggio di alcuni aspetti importanti e anche particolari. Il motore infatti non era sotto al pesante piatto in lega di alluminio, ma al lato del piatto stesso, una soluzione oggi adottata da molti costruttori. Il passaggio da 33 a 45 giri avveniva con un ingegnoso meccanismo guidato da una levetta, che evitava di far toccare la cinghia ingrassandola con le dita. Il particolare comando di avviamento consentiva di accelerare l'avvio del piatto o rallentare drasticamente la corsa una volta spento. Abbinato al BD2 si poteva optare per questo amplificatore integrato Superscope A260, da 15 W per canale, by Marans, con la quale condivideva anche la piacevole estetica in alluminio e similegno. Costruito in Giappone, l'A260 permetteva di collegare due coppie di diffusori per sonorizzare due ambienti diversi o per creare una sorta di effetto similquadrifonico. Nel frontale i comandi erano posti in maniera simmetrica e l'A260 permetteva anche il collegamento di una cuffia stereo o di due microfoni, anticipando di vent'anni la mania tutta giapponese del karaoke. Completava il set una coppia di diffusori scandina A20, particolarmente efficienti per adattarsi ai soli 30 W del Superscope. Anche le scandina erano sorelle minori di un marchio più noto, in questo caso l'americana Dynaco, della quale condividevano la filosofia aperiodica di costruzione degli artoparlanti. La serie eventi era però un unicum rispetto al catalogo Dynaco. Pur non essendo dei diffusori monitor, con 35 W continui a 4 Ohm, le A20 suonavano equilibrate su tutto lo spettro, anche se il timbro era sbilanciato verso la gamma media. Impianto numero 2, giradischi Pioneer PL10, amplificatore Scott 255S, diffusori Acoustic Research 6. Con appena 120.000 lire di differenza rispetto al primo impianto, si cominciava già a gustare l'alta fedeltà, passando da marchi comprimari a veri protagonisti di quegli anni della nostra passione. Per la sorgente si poteva partire da questo PL10 della Pioneer, versione economica del più famoso PL12, vero campione di popolarità in quegli anni per rapporto prezzo-qualità. Per ovvi motivi, pur beneficiando degli ultimi accorgimenti tecnologici della casa giapponese, il PL10 non presentava particolari fronzoli. Tutto era manuale e gestibile con due levette. Dal peso di poco meno di 7 kg, il PL10 aveva nel braccio in metallo cromato il suo punto di forza. In uno dei pochi giradischi, a costare meno di 100.000 lire del tempo, si trovava un braccio molto simile a quello montato sul modello superiore PL51, che costava quasi il triplo. Il piatto, in alluminio pressofuso, un po' leggerino a dire il vero, poggiava come il braccio su un telaio, a sua volta posto su molle morbide altamente smorzanti. Nel 1975 il PL10 sarà eletto giradischi dell'anno dai lettori della rivista Stereo Play. Altro campione di questo set nel rapporto prezzo-qualità era l'amplificatore integrato 255S dell'americana Scott, storico brand attivo dal 1946 con un vasto catalogo di prodotti di fascia media. Molto curato nell'estetica, il 255S presentava un'interfaccia di comandi completa e simmetrica. 5 ingressi più tape monitor, per usare un registratore, regolatori di toni alti e bassi a doppia banda, le levette al centro del pannello, ingresso cuffia e possibilità anche qui di alimentare fino a due coppie di casse, con una potenza massima erogabile di 30 più 30 Watt RMS su 8 Ohm. Completavano le caratteristiche di questo americanino un insieme di buone prestazioni a partire dal timbro fino alla musicalità. Collegata la sorgente analogica all'integrato, per godere finalmente del vostro apostrofi, potevate optare per questa coppia di Acoustic Research modello 6, la più grande delle piccole casse. Diffusori a sospensione pneumatica, le AR6 montavano lo stesso woofer della serie 7, che richiedeva un'adeguata potenza per potersi esprimere. Con i 30 più 30 Watt dello Scott emergeva una prevalenza in gamma medio-bassa, che rendeva questi diffusori adatti più alla musica leggera che a quella classica. Ma andavano benissimo, visto che dovevamo ascoltarci apostrofi. Impianto numero 3. Giradischi Torrens TD 125 Mark II. Amplificatore Marans 1120. Diffusori Goodmans mezzo SL. Raddoppiando quasi il prezzo e avvicinandosi al milione di dire, si potevano cominciare a possedere vere icone del tempo. Il più piccolo di casa Torrens era internazionalmente conosciuto e riconosciuto per i suoi tanti pregi e pochi difetti. Una delle caratteristiche principali di questo giradischi a cinghia era il sistema di galleggiamento dell'intera piastra presso fusa, su cui erano montati il piatto e il braccio. Quest'ultimo poteva anche essere sostituito grazie a tavolette intercambiabili, alcune già forate per montare bracci SME. Proprio il braccio però era oggetto di qualche critica, essendo diritto e non ad esse. La prova sul campo dimostrava invece un ottimo equilibrio su disco liscio. Tutti i comandi erano disposti frontalmente e realizzati con blocchetti rettangolari a slitta. Molto particolare il controllo stroboscopico della velocità, che era elettronico e regolabile con una rotella. Il motore infine non era alimentato direttamente dalla rete, ma tramite un generatore di corrente alternata incorporato nello chassis. In questo modo il giradischi poteva essere allacciato indistintamente alla rete europea come a quella americana. Prestazioni eccellenti quindi per una delle scelte migliori nell'universo dell'alta fedeltà di qualità medio alta. A fianco di un'icona come il Torrens non si poteva che porne un'altra. Il più piccolo di casa Marans, l'1120, era l'integrato per eccellenza della casa americana. Dalle linee più classiche nello stile Marans, l'1120 erogava 60 watt per canale a 8 ohm, risultando essere uno dei più potenti della sua categoria. Una caratteristica necessaria per pilotare i diffusori di nuova concezione per l'epoca a sospensione pneumatica. Semplice, ma completo nelle funzioni esterne, le sue peculiarità l'1120 le nascondeva al suo interno, nella sua progettazione. Stadi di amplificazione differenziale, finali di potenza d'alimentazione simmetrica, sistemi efficienti di protezione dei diffusori, dalla rete e dalla temperatura, permettevano a questo gioiellino di suonare estremamente equilibrato e definito, soprattutto in gamma alta e medio alta. Se si voleva mantenere una coerenza di suono, ad un'amplificazione così trasparente andavano affiancati diffusori altrettanto privi di colorazioni. La scelta poteva ricadere sulle mezzo SL dell'inglese Goodmans, forse il nome meno ricordato del trittico. Altro componente che amava nascondere all'interno, più che mostrare all'esterno le sue caratteristiche evolute, le mezzo SL montavano lo stesso tweeter dainaco delle Scandina A20, ma un woofer proprietario. Suono presente, morbido ed esteso, con bassi potenti, anche se non particolarmente profondi, per assicurare all'appassionato una ricchezza di suono senza necessità di intervenire sui controlli di tono. Impianto numero 4. Giradischi micro MR711. Amplificatore onchio A7022. Diffusori ESS AMT1. Superato abbondantemente il milione di lire, si poteva saltare ad una classe ancora superiore, con una soluzione in grado di soddisfare palati ancora più raffinati. Partendo sempre dalla sorgente, il giapponese micro MR711 era un giradischi a trazione diretta dedicato agli appassionati più puristi. Non proprio bellissimo esteticamente, il micro badava più alla sostanza che alla forma, presentando caratteristiche da primo della classe. Piedini di appoggio ammortizzati e regolabili, motore a corrente continua dal bassissimo rumore, comandi separati per la regolazione delle velocità a 33 e 45 giri con l'ausilio di un V-meter a zero centrale, e braccio regolabile anche in altezza, con anti-skating a molla molto preciso. Un po' la stessa filosofia senza fronzoli la si poteva ritrovare nell'Onkio A7022, l'integrato da 50 watt per canale ad 8 ohm della giapponese Onkio. A dire il vero, nelle sue intenzioni progettuari, il 7022 provava a migliorare l'estetica del precedente 732, attraverso un pannello in alluminio anodizzato dal particolare colore fumé. A parte la sua qualità musicale, caratterizzata da un suono aperto ed equilibrato, l'Onkio presentava sul retro la sua caratteristica più interessante, un adattatore di sensibilità degli ingressi fono su tre posizioni, che consentiva la compatibilità con quasi tutte le testine allora in commercio. Completava questa proposta un set di diffusori davvero molto particolari, non solo nella forma ma soprattutto nell'innovazione che il suo inventore, il dottor Hale, pretendeva di attuare nel complicato campo dell'elettroacustica. Gli acuti di questi diffusori provenivano infatti da un oggetto fuori dal comune, brevettato come Air Motion Transformer, ossia trasformatore del movimento dell'aria. La MT, questa la sua sigla, era un diaframma rettangolare di appena 5 cm piegato a fisarmonica, in modo da formare una serie di bande parallele attraversate dalla corrente. Per mezzo di questo diaframma, gli spostamenti di aria diventavano 5 volte più veloci di quelli generati dalla membrana di un altoparlante tradizionale, che comunque era presente per l'emissione dello spettro medio-basso. Per godere al meglio del suono che queste ESS restituivano, erano necessari alcuni accorgimenti, come il posizionamento in una stanza che non fosse particolarmente riverberante. Garantita questa accortezza, le AMT1 univano i vantaggi dei diffusori elettrostatici, insuperabile definizione timbrica, con la maggiore potenza degli artoparlanti dinamici. Metà del budget di questo set serviva solo per portare in quella stanza queste ESS. Soluzione numero 5 Con l'ultimo impianto proposto si sarebbero superati abbondantemente i 2 milioni delle vecchie lire. Come sorgente la scelta poteva cadere su questo stupendo National Panasonic, e in seguito Technics SL 1100, un giradischi a trazione diretta dal peso di 13 kg. Il solo piatto ne pesava due ed era circondato da una corona con sopra le tacche per il controllo stroboscopico delle velocità, regolabili con due potenziometri. Lo chassis era di lega leggera pressofusa e quattro piedini consentivano di regolare il piatto in altezza oltre a fungere da ammortizzatori. Il braccio tubolare ad esse, dal design futurista, consentiva facili regolazioni per lo standard di questo livello, arrivando a garantire un attrito quasi inesistente. Vederlo tracciare era già uno spettacolo, figuriamoci sentirlo suonare. Per farlo al meglio, la scelta di amplificazione poteva ricadere su un brand storico dell'alta fedeltà nostrana, Galactron. Non un integrato però per questa fascia di prezzo, ma una coppia di pre e finale su due particolarissimi telai, uno dei quali sviluppato in verticale. Premio Gold Sim 1974 nella categoria Hi-Fi Design, il preamplificatore MK16 era dotato di eleganza estetica, ma anche di intelligenza tecnica. Cinque ingressi addirittura miscelabili, due equalizzatori ad ottave e predisposizione per la quadrifonia, se eravate dei fortunati possessori della versione quadrafonic di Apostrofi. Frenzappa riusciva a distinguersi dagli altri anche così. Più tradizionale, ma sempre incredibile, l'MK100, un finale stereo quadrifonico da 100 W per canale. Un mostro di potenza per alimentare un altro mostro sempre di fabbricazione italiana, le ESB240. Con nove altoparlanti, otto dei quali su angoli di dispersione opposti per permettere una maggiore irradiazione, le 240L erano diffusori monitor a tre vie da un metro d'altezza. A guardarle erano imponenti, con il loro woofer da 45 cm di diametro che restituiva un basso violento ma frenato stile electrovoice. L'ottava persa della voce di zappa avrebbe risuonato ancora più potente con queste ESB. Sono sicuro che a Frank questi diffusori sarebbero piaciuti, non solo per i loro eccessi, ma anche perché italiane. Vuoi mettere come avrebbe suonato con queste casse un brano così? Tengo una minchia tanta. Tengo una minchia così. Anche per questo video è tutto. Ciao e grazie da Federico di Seconda Vita.